Ciao, in questo breve video imparerai come utilizzare il servizio IPTV per guardare tutti i canali televisivi italiani. IPTV visibili attraverso un decoder che permette di vedere tutti i programmi TV normalmente senza pagamento. IPTV ad oggi consente di risparmiare davvero tantissimo. Per vedere tutto quello che vorrete in alta definizione e spesso anche programmi ITWIN HD semplicemente un decoder collegato ad internet. Iniziamo comprendendo la comprensione di come utilizzare il telecomando. Accende il box con il telecomando. Per visualizzare l'elenco dei canali, premere una volta il pulsante OK. Per navigare nell'elenco dei canali, premere i pulsanti freccia su e giù. Premere questo pulsante una sola volta per rimuovere l'elenco dei canali dallo schermo. Per cambiare la categoria del gruppo di canali premere il tasto sinistro e destro. E questo è tutto. Ora sai come usare il telecomando IPTV goditi una grande quantità di programmi TV originali dall'Italia. Buona vision! Grazie. Grazie.